Due morti per Covid in Irpinia nelle ultime 24 ore. Presso l'azienda Moscati sono deceduti una 87enne di Avellino, un 82enne di Montemarano. La donna era ricoverata al press ospedaliero di Solofra dallo scorso 11 dicembre. L'uomo da 9 gennaio era sotto osservazione nella terapia subintensiva del Covid Hospital. Per quanto riguarda l'aggiornamento sulla diffusione del virus, l'ASL ha comunicato che in Irpinia su 738 tamponi effettuati sono risultate positive 29 persone, 5 residenti nel comune di Cusano, 4 a Montella, 3 a Montoro. Nella nostra provincia il rapporto positivi tamponi è di 3.9. Da 1 settembre 2020 a oggi presso l'azienda Moscati di Avellino si sono registrati 550 ricoveri di pazienti Covid positivi, 133 sono deceduti, 94 sono stati trasferiti in strutture sanitarie private accreditate e 327 sono stati dimessi a domicilio. In Campania su 9.690 tamponi sono risultate positive, 1.021 persone, di queste 934 sintomatici, 87 sintomatici, 37 i deceduti, 12 nelle ultime 48 ore e 25 morti in precedenza, ma registrati ieri. I guariti sono 1.655 posti letto di terapia intensiva disponibili, 656 occupati, 109. A livello nazionale sono 12.532 nuovi case di coronavirus, con 91.656 tamponi e 448 morti. Il tasso di positività è al 13,6%, ieri 13,3%. La regione con più casi giornalieri è l'Emilia Romagna, 1.942, il Veneto 1.715, la Sicilia 1.587, la Lombardia 1.488, il Lazio 1.254 e la Campania 1.021. della Impostate pathways e il Angeles Romagna, 2. jeruzione, il nostro Mosca fra protezione all'imilito La Lombardia 1.50ende Logina 1.458, il dopamine, 3 tele Bella, 3ulu cpmatemi, valuta l'imilito nel settsection di soled